o iniziamo la nostra mindfulness meditazione di consapevolezza prima di tutto trovo una posizione comoda confortevole ma seduta con la schiena ben diritta ma non rigida una posizione dignitosa ecco chiudi pure già gli occhi così inizi a sestare piano piano la posizione a stabilizzarti intanto ti dico che questo tipo di meditazione hanno un effetto proprio sulla plasticità cerebrale che si misura di solito dalle due settimane ai due mesi e probabilmente noteranno gli effetti prima gli altri se interrogati magari qualcuno che spontaneamente se più calmo se più serena eccetera eccetera e e più difficile che la persona li noti ma qualcuno li sente subito spesso effetto placebo ma noi usiamo l'effetto placebo quello che funziona per quindi se ti piace questa meditazione ripetila ogni mattina possibilmente per almeno due settimane ma idealmente più di due mesi ecco quindi chiudi gli occhi concentrati sulla posizione del corpo nota come la tua base quello che appoggia al cuscino dove sei seduta dove sei seduto sia solida nota la tua solidità come una montagna e nota come il tuo respiro quando inspiri osserva scansiona tutto il corpo quando espiri rilassalo inspiro consapevole del corpo espiro rilasso sciolgo lascio andare ammorbidisco tutte le tensioni sono stati assolutamente e mentre continui a lasciare che ogni espiro il corpo si rilassi si ammorbidisca vada sempre più a fondo lascia che ogni suono intorno a te dentro di te tutto diventi più calmo adesso concentrati sulle tue emozioni quando ispiri e diventi consapevole quando espiri calma e serenità inspiro consapevole osserva le emozioni espiro calmo sereno lascia che siano non attaccarti e mentre continui a entrare in uno stato ogni espiro di agio fisico di calma e serenità emotiva portiamo adesso ogni ispiro l'attenzione ai tuoi pensieri inspirando li osservi li noti come se fosse tu fossi una montagna di calma serenità solida e pensieri fossero delle nuvolette li guardi e quando espiri li lascia andare non ti attacchi non ti lasci trasportare da altre parti coi pensieri ben sapendo che se dovesse capitare quello è un momento di profonda consapevolezza da festeggiare e torni all'osservazione del tuo corpo e del tuo respiro e dei tuoi pensieri quindi inspiro consapevole dei pensieri espiro lascia che siano sorridi se vuoi ai tuoi pensieri che siano sorridi se vuoi ai tuoi pensieri e mentre a ogni espiro continui a rilassare il corpo continui a lasciare che le emozioni si calmino da sole e continui a lasciare che i tuoi pensieri siano quello che sono adesso a ogni espiro immagina che in questa tua montagna interiore sorgano mille sorgenti ovunque anche in posti nuovi inaspettati di gioia inspiro gioia espiro lascio che la felicità vada ovunque inspiro gioia espiro felicità a presto 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 E infine ci concentriamo su un senso di libertà, inspiro libertà, espiro e mi lascio andare nello spazio interiore, inspiro libero, espiro mi abbandono nello spazio. E per l'ultimo minuto di meditazione lascia andare tutto, non c'è niente da fare, non c'è nulla da essere, non c'è niente su cui concentrarsi, lascia andare tutto e semplicemente stai immobile respirando come quello accade naturalmente, non c'è bisogno di fare nulla, non c'è nessun posto da andare, nessun risultato da raggiungere, stai. E molto bene, ecco ricordati che sul canale, sui canali iscriviti, trovi altre meditazioni che puoi fare anche al posto di questa, ricordati di praticare ogni mattina e quindi iscriviti, continua a seguire, continua a praticare e ci sentiamo alla prossima. Grazie per aver ascoltato fino qui. Se ti interessano gli argomenti del miglioramento personale scientificamente basato, life hacking, bio hacking, integratori, benessere psicologico, apprendimento, neuroscienze e transpersonalità, segui lo ZioHack in ogni suo canale digitale, ciascuno con contenuti gratuiti e unici. In particolare su Telegram trovi molti audio esclusivi. Cerca queste quattro lettere senza spazi, Zio, con H di Hotel, su Telegram. Visita il suo sito migliorati.org per trovare tutti i suoi social e il ricco blog hacknews.net.